Massimo Bitonci, oggi in Senato si discute di legge elettorale e di quote per le europee. Che cos'è che non gli va giù? Oggi è anche una giornata particolare perché è la giornata di tutti quanti i papà, a cui faccio i miei auguri e anche da parte di tutto quanto il gruppo. In questa giornata, oltre a subire le affermazioni di molti esponenti del Partito Democratico e di altri movimenti sul Genitore 1 e Genitore 2, cioè togliere il nome papà e mamma in tutti gli atti della pubblica amministrazione, ci tocca anche subire un emendamento da parte del Movimento di 5 Stelle, un movimento che ha dell'incredibile perché oltre ad aver portato alla cancellazione del reato di immigrazione clandestina, adesso senza nessuna consultazione online, propone all'Aula un emendamento, una proposta che vuole portare la parità di genere ai transgender. Io penso che sia una proposta che ha dell'incredibile, noi ci siamo battuti ovviamente per ben altri temi, e è giusto che i cittadini sappiano con chi hanno a che fare perché questo movimento fa delle proposte che diventano non solo imbarazzanti ma anche preoccupanti come questa. Oltre alla parità di genere uomo-donna, il Movimento 5 Stelle propone con un proprio emendamento la parità con i transgender. Siamo veramente arrivati al culmine, io penso che sia una proposta veramente da pazzi.